Applausi e poi io sto in mezzo e la sua come va che ha chiesto e poi io sto in mezzo e la sua come va che ha chiesto non è come stava e poi è cresito ma sono su santo e spigitura non è come stava e poi io sto in mezzo ma sono su santo e spigitura e es a salna se salva e es a salna se salva e es a salna se salva o non su santo e spigitura no s'amor sare no s'amor sare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.